Castagnetti il lancio a cercare la profondità di Okereke che può arrivare sul pallone con lui anche Ostigard lo punta Okereke entra in area di rigore, qualche finta palla dentro, Cioffani non la prende, c'è Pichel! Cremonese in vantaggio con il gol di Pichel, il suo secondo in Italia, 1-0 batte il corner il Napoli, Meite di testa poi in dombele, calce in porta Carnesecchi, Simeone sulla traversa poi Juan Jesus pareggia al Napoli con il gol del brasiliano, 1-1 dopo la traversa di Simeone e la parata di Carnesecchi il gol di Juan Jesus palla larga a sinistra, Zerbin prova a mettere il cross, interessante per Simeone che la schiaccia a terra e trova soprattutto il gol della rimonta in 3 minuti, è 2-1 Napoli Zanimacchia, traversone, secondo palo di testa, Fennagian ha pareggiato la Cremonese Anghissà mette il corpo davanti a Meite, sale Anghissà, palla al piede, se l'allunga, interviene Sernicola era già munito, secondo giallo e rosso, Cremonese in 10 calcio di punizione dentro, Osimen sale di testa, Carnesecchi poi Simeone incredibile occasione, palo e traversa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti